buongiorno a tutti quanti ragazzi benvenuti al canale gameplays 1973 channel un saluto dal vostro amico salvo in questo video sto organizzando l'evento su facebook di dark souls remastered come vedete qui dal video e io aggiungerò poi il link sotto in descrizione perché che voglia partecipare basta che cliccate su parteciperò o in caso mi interessa ma in più ragazzi io credo sulla playstation sulla mia lista amici anche lì l'evento per chi che voglia partecipare quindi faremo sia qui su facebook su ps4 l'evento inizia la giorno 25 ore 14 e 30 faremo fino a mezzanotte ci metterò due tre giorni perché voglio mostrarvi tutto il gioco tutti i segreti e tutte le strategie questa guida servirà anche a tutte quelle persone ragazzi che non hanno mai giocato a dark souls penso che gli aiuterà moltissimo perché vi aiuterò io come a sconfiggere i vari boss ragazzi il mio intento e poi arrivare al new game plus 7 poi vi faremo un altro un altro video e vi mostrerò come arrivarci va beh per adesso continuiamo nella nostra discussione l'evento per me è molto importante perché ripeto questo gioco lo aspettavo tantissimo anche se io aspettavo demon souls la remastered è l'unico souls che non ho mai giocato però mi va bene anche questo ho letto che ci sono piccole migliorie hanno aggiunto qualche piccola cosa oltre a qualche falò mi farete avere letto ma nell'insieme io sono molto soddisfatto perché lo potrò portare sul playstation 4 per me è un titolo nuovo spero che la cosa vi possa interessare vi chiedo di condividere il video di iscrivervi al canale se volete e se volete ragazzi sostenere questo piccolo canale con un bel pollice all'insù io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo sempre in diretta live ciao a tutti ragazzi alla prossima